Sono Tiziana Magnacca, sono candidata come consigliere comunale e appoggio il candidato sindaco Emanuela De Nicoris alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 a San Salvo. Perché mi sono candidata di nuovo? Perché ho deciso che era giusto mettere a disposizione della mia amata San Salvo, la mia esperienza, il mio entusiasmo, la mia voglia di fare in maniera concreta ed efficace le cose per il bene della mia città. Ma l'ho fatto anche per sostenere la mia squadra, quella che a sua volta ha sostenuto me. Era moralmente doveroso stare ancora insieme e continuare a lavorare insieme a loro. Ma ancora di più l'ho fatto perché sono convinta al 100% che Emanuela De Nicolis sarà il sindaco di questa città e dobbiamo sostenirla con una forza mai vista prima perché è una donna solida e capace e San Salvo merita una persona come lei a rappresentarla nella città e nelle istituzioni sovracomunali. Dobbiamo continuare ancora il buon lavoro fatto e farlo con la trasparenza e l'onestà che ci hanno contraddistinti. Quindi il 12 giugno votate Emanuela De Nicolis, candidato sindaco, la lista del cuore, la mia lista civica, San Salvo Città Nuova, che è presente nella nostra città oramai da 10 anni e ha sempre riscosso grandi successi. E accanto alla lista del cuore, che si può votare semplicemente barrandola, scrivete il nome di Tiziana Magnacca per continuare ancora insieme a scrivere la storia della nostra città e continuare a far bene in maniera pulita e trasparente. Grazie per la visione!